Buongiorno a tutti, dunque se non ho capito male, a livello di stipendi e di ammortamenti l'Inter costa 260 milioni di euro e il Milan 175, malcontati sono 85 milioni di euro in più da una parte, in meno dall'altra. Come costo cartellini l'Inter ha un valore di 340 milioni di euro e il Milan 240 milioni di euro, per quanto poi il valore possa essere aleatorio e soggetto alle mille variabili del mercato, quindi 100 milioni in più da una parte, in meno dall'altra. Mi chiedo allora se sia necessario continuare con questo mantra, con questa negna, con questo ritornello, ah ma l'Inter è più forte del Milan, ci sono poche cose certe nel mondo e nella vita ma l'Inter è più forte del Milan, e certo tra bond, debiti e spese è chiaro che se spendi un terzo in più del Milan, un terzo molto molto a abbondante in più del Milan, è chiaro che alla fine sei più forte, è evidente. Non so perché continuare a ripeterlo, ognuno fa la sua politica, mancherebbe altro, mi sembra che la politica del Milan stia iniziando a intrigare in Italia, ci sono in tanti che iniziano a chiederci come fanno quelli a contenere i costi e a far bene sul campo, invece di disprezzarli non sarà bene a guardare bene che cosa fanno e cercare di imparare qualcosa. Ragazzi io ve l'ho detto, ve lo dico da tempo, più tardi lo fanno, questo pensiero meglio è. Lasciatemi salutare OneFootball, OneFootball con la sua app, OneFootball con i suoi contenuti, OneFootball con tutto ciò che riguarda il calcio a livello news e a livello video, partite, highlights della serie A e della serie B italiane gratuiti, calcio in streaming e naturalmente video di ogni tipo. L'app di OneFootball vi aspetta, nella descrizione di questo video c'è il link, scaricate l'app di OneFootball in forma assolutamente gratuita. Quindi, insomma, mi sembra che l'inchiesta della Gazella dello Sport di oggi chiarisca molto bene, la Gazella dello Sport chiarisce anche quanto si sono valorizzati tutti i giocatori che sono arrivati al Milan con un certo tipo di valore e adesso ne hanno un altro. Dice, ho letto la Gazella dello Sport, ho letto il Corriere dello Sport, ho letto Repubblica, dice, tutti vogliono le AO, e a me lo dite, è una vita che lo so che tutti vogliono le AO. Mentre qui in Italia facevano tutti quelli col nasino all'insù, io lo sapevo già dalla scorsa estate che erano arrivate fior di offerte per le AO. Vi ricordate quando mi dicevate noi dovevamo tenere aughe e cedere le AO? Non me lo dicevate tutti, lasciatemelo utilizzare come sfogo a mia volta questo mantra, ma lo so che le AO lo vogliono tutti, lo volevano già la scorsa estate, perché in Europa ragionano di calcio diversamente da noi. Noi abbiamo deciso, qualcuno ha deciso che le AO non erano nemmeno un giocatore di calcio e invece in Europa guardano, guardano, guardano l'età del giocatore, il fisico, i colpi, i margini prospettiva, i margini miglioramento e le AO è ancora tanti, 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 tanti. Scrive Curro oggi su Repubblica giustamente, spazza via il campo tutte le volte, se facesse anche gol ogni volta che scende sarebbe una sorta di CR7, è vero, però io penso che le AO è migliorato tanto da quando è arrivato, ogni stagione è migliorato dall'estate 2019 in poi e prima o poi salirà di molto anche il suo monte gol, quindi insomma sono cose che dobbiamo tenere a mente. Le AO vale di più, Teo Hernandez vale di più rispetto a quando è arrivato, Tomori vale di più, Tonali vale di più, Mignon vale di più e quindi insomma qualche giocatore ce l'abbiamo anche noi perché quelli che insultano, quelli che dileggiano parlano solo di Messias, di Salemekers, di Brahim Diaz, Brahim Diaz è un nazionale, è stato convocato in nazionale spagnola, Salemekers è un nazionale belga, Messias è stato protagonista di una splendida favola e ha segnato al banda metropolitano di Madrid il gol decisivo per la vittoria del Milan sul campo dei Colcioneros. Quindi del tutto strampalato non deve essere, però ecco ho usato il termine insulto, sì perché se tu tutte le volte che il Milan vince una partita neghi il merito del Milan, è come dileggiarlo, è come insultarlo perché sembra che il Milan vinca solo fortuna, episodi, regali degli avversari, a noi nessuno ci regala niente, a noi nessuno ci regala niente. Gli errori fanno parte del calcio, io non vado a guardare le partite degli altri onestamente, potrei stare qui a dirvi per ore guardate in Juventus-Inter rigorino su Dunfri sì, rigorino su Zaccaria no, perché potrei torturarmi con questa cosa qua, visto che è stata indicata come la partita della svolta, non lo faccio, non mi interessa, potrei andare a guardare le praterie di Inter-Verona, non lo faccio, non mi interessa. Guardo i miei e so che il Milan a Roma con la Lazio, Mignon non ha fatto parate per tutta la partita, ha preso il gol, ha fatto un'uscita sui Mogue, basta, finito il lavoro di Mignon. Contro la Fiorentina che a Napoli aveva fatto tre gol e aveva vinto 3-1. Poi è chiaro che se tu metti pressione, continui ad attaccare e può esserci l'errore dell'avversario, in ogni gol c'è un errore dell'avversario. Io pensavo di aver visto tutto sui social quando il famoso pomeriggio pre-Lazio Milan, la famosa domanda di ordine, la famosa risposta di Pioli, avevo letto uno su Twitter che diceva fermate Pioli, arrestatelo, non può andare in panchina domani sera per Lazio Milan, fermatelo. Io fermerei questo qua, questo qua lo fermerei subito, gli rifarei un po' di bilanciature, un po' di convergenze proprio a livello intellettuale, a livello proprio di simbologia e di significato da dare alle cose. Pensavo di aver visto il peggio con questa frase qua, invece oggi ne ho vista un'altra peggio ancora, perché nelle moviole, c'era un tweet di Fabio Ravezzani, uno gli ha risposto perché nella moviole non hai parlato del regalo di Stracoscia e del regalo di Terracciano, ma quale regalo? Con la costruzione dal basso oggi tutti sbagliano, tutti sbagliano, potremmo parlare anche noi di che cosa ha combinato Pablo Marì che si è messo a fare quell'intervento su Geco, poi secondo alcuni l'ha preso, secondo altri no, non mi interessa, non sono appassionato al dibattito, in Udinese e Inter, in ogni azione c'è un errore dell'avversario, il Milan nel secondo tempo di Lazio-Milan aveva reso Stracoscia con le sue conclusioni il migliore in campo, poi so che chi di legge insulta il Milan come stella polare della propria vita, come ossessione della propria vita, nega qualsiasi conclusione del Milan, qualsiasi occasione del Milan, sembra che il Lazio-Milan abbia attaccato solo Lazio, guardatevi le partite, guardatevi le partite oppure riguardatele da uno bravo, poi naturalmente avrete la possibilità di confrontare il parere di pancia che avete maturato subito dopo la partita con un parere più meditato, con un parere specialistico, con un parere diverso, però insomma celiando e celiando siamo alle porte di tre giornate importantissime. Io penso e vedo che si respira in questa città lo stesso clima che si respirava più o meno prima, nella settimana durante e dopo l'Euroderby della semifinale del 2003. Mi sembra che ci sia quel clima sospeso, questo clima di apnea diffusa, questo clima particolarissimo che dobbiamo, che tutta la città deve essere brava a sfruttare. Io ricordo come si arrabbiò Ancelotti e il nostro allenatore nel 2003 quando una semifinale europea di Champions League fra due squadre della stessa città venne in pratica ridotta a referendum fra i due allenatori, cioè chi vince resta, chi perde se ne va. Ancelotti disse ma no, è una grande sfida, ma perché ridurla così? E anche qui insomma ridursi, a parte che Terracciano nella sua carriera contro il Milan ha fatto fior di miracoli, ricordo con Gattuso in panchina un Empoli Milan 1-1 in cui Terracciano parola qualunque. Terracciano è sempre stato un mio incubo, mi ha soltanto restituito una parte delle parate che ha fatto contro di noi anche se non mi ha restituito nulla perché poi quando prende palla Leao la difesa della Fiorentina si rimette a posto. Il tiro di Leao poteva anche non essere gol, è stata una palla che ha rimbalzato in maniera particolare, c'è stata una componente tecnica, una componente di fortuna sul tiro di Leao. Sì è stata sbagliata la costruzione dal basso, quante volte la sbaglio? Quante volte le squadre avversarie sbagliano la costruzione dal basso e noi non ne approfittiamo? Con la Fiorentina siamo stati bravi ad approfittarne. È andata così, ma la palla torna al centro e bisogna evidentemente dare il massimo per le prossime tre partite che sono evidentemente, che ve lo dico a fare, appaiono più malleabili, molto più prendibili da parte dell'Inter che da parte nostra, ma insomma noi stiamo cercando e sognando una grandissima impresa. La grandissima impresa non arriva mai attraverso partite così, arriva attraverso partite importanti e speriamo di riuscire a farci trovare pronti all'appuntamento, speriamo. Ci vediamo e ci sentiamo oggi pomeriggio dove vi parlerò della bufala, della fake news, della Fatal Verona. Proprio così, la Fatal Verona non esiste. Ne parliamo di pomeriggio.